Siamo andati a mangiare un piatto di Bruno Barbieri Bene sì ragazzi, oggi siamo andati a mangiare un piatto di Bruno Barbieri completamente a caso nella nostra crociera Esattamente nel ris... Sì, bello il video però diciamo che me l'hanno un po' distrutto su Facebook Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video per chi non lo sapesse, io sono Paul e oggi siamo tornati con un nuovo video sul canale diverso dal solito perché solitamente non ho mai fatto questo genere di video quindi sarà completamente nuovo per me e oggi andrò a commentare con voi delle cose che mi sono accadute postando un video su un social che l'avrete già detto dal titolo in questione è Facebook e diciamo che mi sono un attimo stupido di questa cosa adesso ne parliamo subito ma prima di iniziare col video io vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati e avere sempre nuovi video su di me oppure su infioriture, tutorial, viaggi, unboxing tutto quanto che forse dovrei fare pure un unboxing di alcune carte che ho preso a Barcellona partiamo col video prendiamo il mio telefono ok adesso sto in teoria registrando lo schermo andiamo su Facebook sono già entrato nel mio profilo ed in pratica qua io sono principalmente un creatore di contenuti inerenti alle carte quindi faccio magia spettacoli faccio vedere le reaction di amici o sconosciuti che registrano i miei giochi di magia e come potete vedere non è che vado molto bene con i video delle carte cioè sì su Facebook ho tipo 200 amici ci sono video in cui ne faccio 1000 altri 86 altri 300 poi a casissimo siamo andati sulla crociera io e questo mio carissimo amico che è il mio migliore amico c'è pure il video sul canale lo trovate in alto nelle schede mi pare qua sì forse sì mi pare qua in alto nelle schede avrò sbagliato sicuro però vabbè ed in pratica è successo che siamo andati in questo ristorante abbiamo mangiato questo piatto che era di Bruno Barbieri cioè era un piatto creato da Bruno Barbieri ma non c'era effettivamente Bruno Barbieri sulla crociera a cucinarlo c'erano tutti questi indiani che cucinavano che era molto buono per carità di Dio tutto rispetto per gli indiani però non c'era effettivamente Bruno Barbieri era un piatto di Bruno Barbieri anche da vivo mi hanno criticato dicendo eh sì sei andato a mangiare da Barbieri raga non sono andato a mangiare da Barbieri sono andato a mangiare un piatto di Bruno Barbieri con tutto un altro menu vicino che comunque siamo entrati abbiamo visto sta roba e ho detto boh proviamo a fare un video così perché io sperimento faccio video di qualunque cioè sto provando ultimamente a fare video di qualunque cosa viaggi unboxing poi vorrò fare anche delle interviste appena andrò a un raduno di magia o cose così e voglio provare a fare un commentare un piatto io non ho esperienza né nulla raga in pratica su Instagram è andato abbastanza bene mi pare abbia fatto 3.000 o 4.000 visualizzazioni ora non me lo ricordo su TikTok avrò fatto 1200 visualizzazioni solitamente come solitamente su Facebook che pubblico cioè su Instagram e TikTok i video delle carte di magia vanno un po' di più rispetto a Facebook ma non vanno così tanto invece su Facebook ho pubblicato questo video ragazzi cioè guardate guardate è quello in basso a sinistra 108.000 visualizzazioni da novembre siamo adesso a gennaio 108.000 visualizzazioni per me sono tantissime vuol dire che hanno riguardato e riguardato il video e meno male che l'hanno fatto poi c'è da dire una cosa su Instagram e su TikTok mi hanno commentato il video dei miei amici ma in modo scherzoso anche gente che non mi conosce in modo scherzoso l'hanno commentato perché i food vlogger che non l'ho mai fatto e mi prendevano in giro soltanto che con gli amici e per scherzo va bene però su Facebook mi hanno insultato dei vecchi gente di 50 anni anche di 30 e sono già adulti quindi dovrebbero cioè adesso andiamo a vedere un attimino dei commenti perché questo video voglio commentare la tossicità di Facebook poi c'è una signora che mi dice se vivessi in Argentina le empanadas le tirano dietro non mi sembra niente di che ok impara a tenere le posate che è meglio io ve lo dico più semplice io sinceramente mangio nello stesso modo ovunque che sia in una crociera stellata e tutto quanto e che sia che babbarone cavagnolo uguale identico io mangio e cosa facevo io non tenevo le posate così come c'è coltello a destra e forchetta a sinistra appena finisci di tagliare devi passare la forchetta e mangiare perché a me per me è scomodissimo e io mangio con direttamente la forchetta a destra e il coltello a sinistra col coltello lo tengo così e taglio va bene il video si vede perfettamente mi hanno dato dell'animale del primitivo e tutto soltanto per come mangiavo dopo andiamo a leggere ed in pratica io mangio così perché sono abituato a mangiare così cioè non è che mi faccia tantissimi problemi adesso continuiamo a leggere i commenti è un piatto quasi vuoto e fatela finita con gli chef questa qui ha detto la sua opinione che commenti su piatti stellati non gliene fregano nuda va benissimo signora basta fare questo movimento qua altra signora capirai empanadas comunque impara a tenere le posate prima di fare i video che è meglio mi spiace una persona adulta che tiene le posate in quel modo non è credibile signora ma qual è il problema commentare un ragazzo di 18 anni che sta provando a commentare un piatto ovvero non sono un critico della cucina italiana non so nessuno però volevo provare a fare un video così come ho provato a fare video di magia vedevo che mi venivano bene perché sono bravo in quello cioè non mi può non mi posso veramente fustigare così cioè no io veramente non me la sono presa non mi è successo nuda però mi fa ridere che l'unico video dove non faccio magia dove tengo male delle posate sia il più commentato e il più visto perché tengo male delle posate cioè non perché è bravo con le carte babà perché ho tenuto male delle posate e mi fa ridere come cosa perché effettivamente i video che vanno di più non è così non è sempre così perché l'ho provato anch'io con i video della storia della magia vanno di più cioè semplice i video che fai male o che fai sul momento sono quelli che vanno di più e l'algoritmo è una cosa che non capirò mai perché cioè io ci sono rimasto male non per i commenti a me che mi frega dei commenti poi mi pare che mia sorella sia andata a blastare una di quelle non so perché però mi fa rimanere un po' così che cavolo mi impegno per fare i video su youtube che non sto più prendendo visualizzazioni però va bene non mi interessa i video su tiktok instagram che si vanno però non è che vadano così tanto l'unico video dove non c'entra nuda la mia arte il mio format perché alla fine è un mio format la magia del cardistry 100.000 visualizzazioni ma ci rendiamo conto boh boh a me fa ridere continuiamo continuiamo se no vi annoio un'altra signora mi dice io in crociare ho mangiato un piatto di crack che ho passato la notte in bagno questo non è né offensivo né nuda anzi mi ha fatto proprio piacere sapere che la sera si è andata a cagare fortemente nel bagno assolutamente però qua boh io mi sono messo a ridere perché vabbè ci sta mi è andata di fortuna che non ho avuto il cagotto e altro poi un'altra signora ha detto ma come taglia oddio ma come taglia ma che c***o ne frega signora ma che c***o mi fa scazzare da dire impara a usare le posate 2023 maneggiate come animali non sa tenere nemmeno le posate con una specie di emoji strana con i punti interrogativi esclamativi e una chiocciola va a scrivere la meta signora ma se non sei neanche capace di tenere le posate come si deve e mangi da barbieri ma le posate le sai tenere mia nipote di 7 anni ti dà un consiglio evita mi fa sbagliare ragazzi no veramente io dopo questo video pubblicato su facebook ho capito che facebook è più tossica degli altri social tutti quanti dicono no instagram è tossica tiktok è tossica youtube è tossica oppure ci sono tipo vedete sui video che i giovani sono tossici insultano sui social cioè dicono tanto i giovani sono tossici sui social insultano non sanno di cosa parlano e balle varie il problema vero che sta all'origine è che in realtà se parer mio personale poi potete blastarmi anche qua sotto non mi interessa sinceramente secondo me parer mio è facebook il più tossico sono le persone over 25-30 anni che sono le più tossiche perché in quel video non mi ha commentato nessuno di giovani ma nessuno nessuno tranne vabbè mia sorella per blastare gli altri e a me cioè sugli altri social che tutti i giovani mi hanno commentato mi hanno fatto ridere perché boh si ci sta a scherzare tutto su facebook mi prendono non dico insulti perché alla fine nessuno mi ha chiamato pezzo di merda o cose così ma mi hanno diciamo detto evita cioè perché fai sti video babà a me fa soltanto riflettere sta cosa io parlo adesso un po' a tutti non dite che i giovani sono tossici che i giovani insultano dite piuttosto la verità perché cioè sui social va bene tutti sono le linee a testiera questi qua secondo me ci hanno messo sicuro tempo zero a scrivere babababa ma cavolo in tutto il tempo che hai scritto per commentare potevi vederti altri tre video e dimenticarmi perché alla fine funzionano ormai così guardi un video oh figo va bene te ne sei già dimenticato dopo aver fatto questo dopo aver scrollato te ne sei dimenticato il punto della situazione è questo vecchi non rompete le non voglio essere volgare non rompete le scatole a chi vuole fare i video per divertirsi scusate era un attimo di sfogo il video è finito non ho altro da dire sinceramente perché era un attimo di sfogo mi è anche piaciuto farlo quindi mi sa che farò più video così quindi per favore insultatemi di più nei commenti e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto io vi ricordo di seguirmi sulle pagine instagram e tiktok che trovate i link in descrizione vi metto pure la bellissima pagina facebook così almeno andate a seguirmi e mi insultate e vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao raga ciao You're gonna win, I know what you say You're gonna win, I know what you say